uno sceglie un medico, poi è da quel medico che si fa curare. Ecco, guardate che l'allevatore non è solo quel negozio supermercato di cani, è mica un cucciolo di pastore dell'Asia Centrale, si lo voglio bianco, ciao, ok, fatelo pure. E queste persone però dopo 6 o 7 anni o non avranno mai più un pastore dell'Asia Centrale o devono cambiare idea, perché il pastore dell'Asia Centrale può portarvi dei vantaggi in famiglia che voi manco ve li immaginate, ma veramente, e vi dico che voi non ve li potete immaginare perché non me li immaginavo neanche io. Io vi dico la verità, quando ho smesso di fare l'imprenditore ho deciso di venire a vivere qua in mezzo al verde e non credo che me ne andrò mai più di qua da vivo, condivido solo questa mia passione per la montagna con due o tre giorni alla settimana col mare perché queste due essenze della natura mi attirano molto e ho deciso di, quando avevo 40 erotti anni, di volermi occupare molto e di stare molto in mezzo alla natura ma io partì con i cavalli, questa fu proprio una scoperta, una scoperta dalla quale poi non riuscì più a farne a meno tanti dicono che io ho fatto il business dei cani, certo io ho venduto molti di questi cani ma era l'ultimo business che pensavo di fare, figuriamoci, avevo chiuso quei business e chiunque abbia commercializzato nei cani sa benissimo come per poter rimanere sempre al centro del business bisogna cambiare la razza, bisogna andare dietro a quei cani che in teoria tutti vogliono e quali sono normalmente quelli che tutti vogliono? e quelli che magari appunto si trovano all'esposizione, a quelli che vengono fotografando possono un po' per la mole, un po' per lo sguardo, un po' per tante cose possono incontrare i gusti di chi? Non degli specialisti delle razze perché poi, cioè basta, come si faccia ad essere specialisti di queste razze senza mai essere andati nei luoghi dove sono nate queste razze e aver conosciuto i cani dei pastori di allora, perché vedete il pastore dell'Asia centrale è sì una razza molto difficile da capire, credetevi, molto difficile è assolutamente vero che potete comprare migliaia di meticci credendo di avere un pastore dell'Asia centrale questo ve lo dico già io è assolutamente vero che chi vede tre tipologie, tre cani di una tipologia dell'Asia centrale poi non avendo la cultura sulla razza possa, non conoscendo questa razza, dire no, ma quelli non sono, perché lui ha in mente gli altri la verità è che, come facevano una volta quelli del pastore tedesco che andavano a studiare in Germania tutto l'Asia centrale è un po' più lontana quindi crea delle difficoltà da un lato per raggiungere e farsi una cultura ma nello stesso tempo crea una facilità per quelli che vogliono raccontare tutte le bugie che vogliono anche io potrei raccontarvi, ecco perché sto cercando di organizzare questi viaggi per portarli ma non lo posso parlare io e se volete realmente non andare nelle capitali a vedere quattro gabbi andare poi a mangiare la pizza la sera nelle capitali perché i capitali si evolvono sempre di più non sono tanto diverse ormai specialmente alcune capitali dell'Asia centrale dalle nostre capitali anzi, ce ne sono alcune che con i pozzi che loro hanno petroliferi con i gasonodotti e con altre risorse del territorio che hanno compreso brillanti, ovvero diamanti e tanti altri minerali eccetera sono molto più belli dei nostri studiare questo cane, siccome si chiama cane da pastore dell'Asia centrale bisogna, e non è la cosa più facile del mondo ecco perché bisognerebbe che iniziassi a provare, aderire a queste iniziative non pensare che tutto il meglio costi poco no, il meglio costa di tanto poco tu avrai sempre poco ma lo vedete con tutte le cose e se allora sei quella persona che non si può permettere certe cose bisognerebbe avere l'umiltà non di contraddire solo perché non conosci ma di iniziare a imparare da quelli che queste esperienze le hanno fatte allora, come vi dicevo, è difficile la razza del pastore dell'Asia centrale ma nello stesso tempo è facilissimo riuscire a trarne una conclusione qual è l'autentico pastore dell'Asia centrale? è il cane, senza dire troppe balle cinofile che i pastori dell'Asia centrale nella storia e tutt'oggi utilizzano laggiù dove hanno il bestiame perché è un cane da pastore e bisogna andare là a vedere cioè lasciamo perdere tanto per parlare dei pastori locali come possano essere morfologicamente di carattere eccetera oggi i pastori maremano abruzzesi che vi vendono gli allevatori ma se voi volete veramente studiare il pastore del maremano abruzzese dove qui c'è questo litigio ma non è la mia razza, non mi interessa si deve chiamare Mastieno e tutte queste cose non mi interessano minimamente per adesso mi sembra che il mio amico mi dice sempre che fa l'allevatore il nome ufficiale pastore maremano abruzzese mi sembra che sia quello voi dovete andare in Abruzzo specialmente in Abruzzo cercare delle greggi tanto vedere se hanno il pastore maremano abruzzese fortunatamente adesso si sono aperti anche laggiù in Abruzzo ad altre razze ma laggiù dove hanno il pastore maremano abruzzese se non sono persone perché adesso con i contributi magari può anche capitare che hanno iniziato l'altro ieri se hanno una storia di famiglia come ne trovate ancora altre beh parlare con loro perché l'autentico pastore maremano abruzzese al di là di ciò che possono dire tutti quelli che hanno altre convenienze è quello che i pastori che lavorano in Abruzzo da tanti anni da famiglia in famiglia si sono tramandati ok poi possiamo inventarci di tutto fortunatamente adesso i pastori vengono anche sui soldi